Che va già di mio caro, francamente sta malattia non è una malattia, voi avete tutto e non avete niente, in fondo è un frutto della fantasia, a medicina, sui divertimenti, la distrazione, la sciampagneria, per voi, si caro o mon, o moragent, deve essere un motivo d'allegria, e non mettete limiti alle spese, state malate, e beh, per non malate che so, tre o quattro mila lira o mese, mo è caldo ancora, ma tra seno e autunno fatevi un bel viaggetto, ci ho pensato, e dove andate? Ma calato mon.